Un vero e proprio baratto, circa 10 tonnellate di bio-vegetal, il bio-fertilizzante organico prodotto da Terza Ampuglia dai rifiuti organici conferiti dai comuni del territorio contro oltre 500 kg di frutta e verdura coltivate da un'azienda agricola di Putignano sulle proprie terre e fertilizzate con l'ammendante dell'impresa modugnese. È il quarto round di un progetto che guarda non solo al ciclo dei rifiuti e al rispetto dell'ambiente ma anche alla ciclicità stagionale delle coltivazioni da mettere sulle tavole dei dipendenti in una strategia di welfare aziendale che destina alle risorse umane un benefit derivante dal loro stesso lavoro. Dall'inizio del progetto sono state fornite circa 38 tonnellate di fertilizzante bio-vegetal ricevendo in cambio oltre 2.100 kg di frutta e verdura di stagione donati a tutta la comunità aziendale. Tersama recupera i discarti organici e quindi il risultato della sua trasformazione è un bio-fertilizzante organico consentito in agricoltura biologica che serve a mantenere la fertilità dei suoli, a contrastare la desertificazione e partecipa a quel processo di mitigazione del cambiamento climatico. Questo progetto è stato creato dai dipendenti e da tutti i dipendenti all'interno di una giornata un ideaton cui tutti i dipendenti divisi in 12 gruppi hanno generato i dei progetti e poi abbiamo selezionato due progetti vincenti. Questo dalla comunità alla terra, dalla terra alla comunità è proprio uno dei due progetti.